Se si fa un lavoro di squadra, ognuno fa la propria parte bene, l'Italia può costruire delle storie di riscatto fantastiche, quindi ci sono centinaia di siti archeologici, di luoghi dell'Italia minore che nel mondo sono grandi attrattori, potrebbero essere attrattori di turismo culturale di milioni di persone. I Pompei insegna che ci sono altre cento possibilità, mille possibilità di questo tipo di storie di riscatto in Italia. C'è un presente fatto di ricerca, di professionalità, di eccellenze italiane nel campo dell'archeologia, della storia dell'arte e della cultura, è davvero un grande presente e che abbiamo anche un grande passato.